Scopri Acond, dove l'innovazione incontra la precisione. Sei curioso? Immagina la tecnologia più all'avanguardia a fondersi a folgorante velocità, alimentata da attrezzature moderne di ultima generazione. Grazie alle abili mani di esperti specializzati che supervisionano ogni passo del processo con cura e attenzione costanti. In Acond, testare è un'arte. Ogni dettaglio, ogni parte, ogni riflesso viene esaminato scrupolosamente ogni singolo giorno. Acond è molto più che tecnologia. È la quintessenza della motricità, della velocità e della continuità di movimento. E tutti questi elementi culminano nella realizzazione delle più silenziose ed efficienti pompe di calore sul mercato, direttamente dal cuore dell'Europa. Esperienza Acond, dove il silenzio incontra l'innovazione.